Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa a cura della Scuola di Giornalismo di Napoli. Oggi, venerdì 12 maggio, vediamo insieme le principali notizie sui quotidiani nazionali e locali. Repubblica e Corriere della Sera aprono entrambe con un'intervista, però si tratta di interviste molto diverse. La Repubblica intervista il medico siriano che ha visto morire i suoi tre figli nel naufragio del 2013. Così l'Italia ha lasciato annegare i miei bambini. Mentre il Corriere della Sera riporta un'intervista dell'Economist a Trump. Il Presidente degli Stati Uniti parla della sua riforma fiscale e dice sarà la più grande riduzione fiscale nella storia del Paese. Ma diciamo che comunque invece l'argomento che tiene Banco maggiormente è la polemica, lo scontro tra il Ministro Lorenzin e il Ministro Fedeli a proposito dei vaccini, l'obbligo dei vaccini a scuola. La Repubblica titola senza vaccino niente scuola ma il governo stoppa Lorenzin. La Ministra Fedeli va garantita l'istruzione per tutti. Ugualmente il Corriere della Sera scuola vaccini obbligatori. Ci spostiamo sulla stampa invece dove troviamo un'altra notizia in apertura. Un nuovo caso Etruria. Etruria un altro caso nel governo. Si allarga lo scandalo Banca Etruria. Prima del commissariamento un altro esponente del governo chiese aiuto a Popolare Emilia Romagna. Vedremo dove porterà questa notizia. Ma c'è ampio spazio anche alla legge elettorale. Ad esempio sul mattino si parla dello scontro della legge elettorale. La legge elettorale rischia di naufragare ancora prima di partire. Il PD ha avanzato la sua proposta a Matterem lo rivisto e corretto ma poi in realtà come leggiamo in serata la Commissione Affari Costituzionali ha depositato un testo base che propone proprio invece un italicum bis. Ma un'altra notizia importante riguarda l'inchiesta Consip, in particolare il filone che coinvolge il capitano Scafarto, il quale ha invece riferito di aver aperto il fascicolo riguardante il filone dell'inchiesta sui servizi segreti proprio perché consigliato dal PM Woodcock. Quindi il mattino titola il capitano coinvolge Woodcock e la stessa notizia la troviamo sul Corriere del Mezzogiorno dove appunto si dice anche che il procuratore di Napoli in un duro comunicato dice mai confermata la fiducia a quel comando. Ma sui quotidiani inoltre locali tra cui il mattino invece troviamo ancora un'altra notizia. Lo scontro tra il sindaco De Magistris e i vigili a proposito del fermo di un ambulante abusivo fermato appunto in seguito al decreto che prevede i DASPO urbani. De Magistris sull'ambulante fermato regolarizzerò la sua posizione, i controlli vanno concentrati sui parcheggiatori. Ci spostiamo sulle pagine invece locali della Repubblica dove troviamo la stessa notizia dello scontro tra De Magistris e i vigili urbani ma troviamo anche la fotonotizia sulla mostra a Capodimonte dove verrà esposto il Cristo in croce di Van Dyck, l'opera del famoso pittore Fiammingo. Chiudiamo con lo sport, con la gazzetta dello sport. Ovviamente è dato ampio spazio in attesa della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, ma ricordiamo che ieri sera si sono qualificate per la finale dell'Europa League Manchester United e Ajax, finale che si disputerà invece a Stoccolma. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima Rassegna Stampa.